Ciao a tutti, questo è un libricino che riporta il testo della Costituzione italiana. Adesso leggiamo un articolo assieme. È una sorpresa e uno scoop anche per me, perché l'amico Giuseppe mi ha incastrato e adesso leggiamo. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidati le funzioni pubbliche per di più, dico io, hanno il dovere di adempiere con disciplina e onore, di sottolineare con onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Allora, questo articolo ci apre la mente e degli scenari veramente infiniti. Noi tutti i giorni abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione e con i funzionari della pubblica amministrazione e soprattutto, anche se non abbiamo contatti diretti con i dirigenti, certamente a capo di queste pubbliche amministrazioni, questi enti che quant'altro ci sono dei funzionari. Allora, noi la settimana scorsa e molte volte in passato abbiamo denunciato le malversazioni e i malfunzionamenti della pubblica amministrazione nelle persone, dei loro dirigenti e anche dei massimi dirigenti. Continuiamo oramai a farlo da molti anni senza nessun risultato, va detto, nessun risultato diciamo efficace, perché un risultato quantomeno di comunicazione e di divulgazione dell'incapacità di gestione dello Stato lo stiamo facendo da anni. E quindi oggi siamo qui in questa occasione a precisare nel dettaglio il dettato appunto della legge e cioè che un cittadino, chiunque sia, deve rispettare la Costituzione, il dettato della Costituzione e le leggi, le normativi e i regolamenti, i circolari ministeriali e quant'altro, ma soprattutto sono tenuti a farlo coloro che gestiscono le strutture dello strato. Con onore, lo puoi rileggere? Certo, ma questo appunto come Giuseppe Sottolinea, questo è il punto principale, c'è una discriminante assoluta, cioè non si può fare un'attività come quello del pubblico amministratore senza non essere obbligati a farlo con onore. Non basta fare le cose come dice il dettato della legge, ma bisogna farlo con disciplina, con sovrapposizione precisa al dettato della legge e soprattutto con la memoria di quello che poi permarrà agli altri e quindi l'onore che ne deriva nell'averlo fatto o non averlo fatto, averlo fatto secondo etica, secondo morale o non averlo fatto. In conclusione, e finisco, non basta quindi essere consapevoli del lavoro che si fa, bisogna farlo secondo la coscienza del buon padre di famiglia come ci ricorda sempre la legge. Quindi, riguardiamoci tutti, l'onore innanzitutto, a tutto c'è rimedio, forché alla perdita dell'onore, è come la virginità l'onore, una volta che l'hai perso, è persa, non c'è più. Ciao.